Il Museo di San Domenico, chiuso nel 2012, aprirà presto le sue porte al pubblico. La campagna di raccolta fondi, riapriamo il Museo di San Domenico, lanciata sulla piattaforma digitale dall'Associazione Arte Mia e fortemente sostenuta dalla Diocesi di Prato, ha infatti raggiunto il suo obiettivo. Anzi, lo ha superato. Dal 9 di maggio ad oggi sono stati raccolti 11.229 euro, oltrepassando di 229 euro il risultato prefissato. Due gli step da raggiungere. Il primo di 6.000 euro da investire per risolvere il problema più urgente, cioè l'acquisto di teche ed espositori. Il secondo di oltre 5.000 euro per completare l'allestimento della sezione archeologica del Museo. Ogni donazione, ha spiegato Arianna Pierattoni di Arte Mia, è stata determinante, grazie a tutti coloro che hanno creduto fin dall'inizio nel progetto, che ha fatto sì che si diventasse fin da subito vincente. Adesso, in attesa della riapertura definitiva del Museo, è il momento delle ricompense, che vanno dalle visite guidate gratuite, alla consegna di libri e guide tascabili, fino all'incisione del proprio nome sulla scalinata del Museo o su una teca.